Allora, un paio di giorni fa Mario Biondi ha pubblicato un post abbastanza in modalità aggressiva diciamo, abbastanza provocatorio, su cui secondo me è molto interessante trovare degli spunti di riflessione, che è un po' l'obiettivo di questo video, quindi un po' appunto fare un po' riflettere o comunque stimolare una riflessione riguardo a questi argomenti che non sono scontati, non sono banali. Allora, questo è l'articolo da Rolling Stone. Rolling Stone ha fatto un articolo veramente fatto molto bene, che riassume bene tutta la faccenda, quindi andrò ad analizzare appunto questo articolo da Rolling Stone. Dopo vedremo anche delle dichiarazioni di Ghigo Renzulli dell'Itfiba che secondo me possono dare una chiave di lettura particolare rispetto al sentimento, diciamo, rispetto a quello che è il sentimento di Mario Biondi in quanto artista italiano. E poi vedremo anche alcuni dati che possono far riflettere invece sulla questione generale che ha voluto tirar fuori Mario Biondi. Come vedete qua, diciamo, il riassunto del suo post era, volete fare i rivoluzionari? Boicottate le radio che passano musica straniera. Ovviamente come c'è scritto qua, il cantante suggerisce al pubblico di fare pressione affinché le radio programmino musica italiana e non tutti la prendono bene. Ha ricevuto una shitstorm incredibile, tanto che, vedremo poi, ha dovuto creare altri post per spiegare meglio la sua posizione, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere passo per passo. Ecco, qui inizialmente si riassume quello che abbiamo appena detto, però una cosa interessante che c'è scritto, anche se a dir la verità, fra i tantissimi commenti sono in pochi quelli solidali con l'autore. Ecco, per esempio qua fanno vedere alcuni dei commenti. Mario, ma che dici? Ti stimo come artista, ma queste esternazioni non hanno senso. Se c'è una cosa che è impossibile imbrigliare è la musica. Cioè, nel senso, è impossibile dire a una persona non ascoltare quella cosa, devi ascoltare questa, appunto secondo quest'utente, che effettivamente è una cosa giusta, ma dopo voglio anche dare, diciamo, la mia visione rispetto a quello che poteva essere l'intento di Mario Biondi. Cosa saresti stato tu se non fossero esistiti gli standard jazz che hai così bene interpretato? Gli ricorda un utente, dicono qua. Ecco, qua è riportato il testo, diciamo, di tutto il post di Mario Biondi. Volete fare i rivoluzionari? Volete fare qualcosa per la musica italiana? Boicottate tutte le radio che programmano musica straniera. Fatelo per una settimana, se non bastasse per due, ma siate coerenti e vedremo insieme se essere uniti per la musica può servire coraggio. Questo è proprio il post intero che ha scatenato, diciamo, l'ira di molti utenti, soprattutto su internet, ma di fatto mi fa un po' strano quando la gente dice ha scatenato l'ira degli utenti su internet, perché in realtà quegli utenti su internet in realtà sono persone, quindi diciamo che ha scatenato l'ira delle persone. Dopo che ha ricevuto la shitstorm, praticamente lui ha cercato di spiegare meglio il suo pensiero, quindi ha scritto La musica in Italia è in crisi, ve ne siete accorti? Sostenere la musica italiana vuol dire sostenere la filiera intera. Oggi è necessario, poi torneremo ad ascoltare le hit straniere. Ecco, questo è abbastanza importante anche per quello che sto per dire io inizialmente in difesa, diciamo, di Mario Biondi, poi in realtà è solo per far capire un po' il suo pensiero, che in realtà io non ritengo né giusto né sbagliato. Poi qua dicono, non solo perché è subissato di nuovo da commenti negativi, è tornato a precisare, e quindi ha fatto un altro post, è sempre difficile farsi comprendere, siete italiani? Sostegno agli italiani, i francesi sostengono i propri prodotti, gli inglesi idem, gli americani ancora di più, l'arroganza negli ignoranti è un male imbarazzante e imbattibile, mi arrendo, che in questo caso ha un po' sclerato, diciamo. Questo è il primo post su Instagram, appunto. Poi c'è stato un altro post che ha fatto, io vorrei che le radio sostenessero il prodotto italiano, vi è chiaro adesso? Se non vi è chiaro avete qualche problema di udito. Ma è la didascalia del post che ha ancora di più scaldato gli utenti che lo seguono, ovvero lui ha messo come didascalia del post praticamente le offese che ha ricevuto. Sovranista, rincoglionito, incoerente, sfigato, scemo, stupido, assurdo, imbarazzante, poco serio da abolire, blasfemo, ridicolo. E poi ha scritto le persone frustrate devono necessariamente vedere il peggio negli altri per sentirsi migliori. Ecco, poi per esempio qualcuno gli ha fatto anche notare che per esempio lui sì fa musica italiana però canta in lingua inglese e quindi qua dice a chi gli rimproverava di parlare di musica italiana ma di cantare soprattutto in inglese, che è effettivamente un'obiezione che ha senso anche se in realtà lui intendeva di preservare diciamo gli artisti italiani più che altro, più che la musica cantata in italiano. Quindi diciamo che è un'obiezione che ci può stare fino a un certo punto. E lui ha risposto avete una vaga idea di quanti artisti italiani cantino in lingue diverse dall'italiano eccetera eccetera. Ecco allora una cosa che mi sento di dire diciamo leggermente in tra virgolette difesa ma non tanto in difesa in realtà è una cosa che mi sento di dire per far capire forse meglio l'intento di Mario Biondi quando ha deciso di scrivere questa cosa. Ovviamente il fatto di boicottare per sempre come stile diciamo di ascolto di vita le radio che passano musica straniera è una cosa che non esiste sulla faccia della terra, non ha alcun senso eccetera. Ma quello che diceva lui è se lo facciamo per un periodo di tempo limitato magari riusciamo a cambiare qualcosa rispetto alla cultura generale italiana che io sono d'accordo che non valorizza abbastanza. Cioè l'Italia in generale non riesce a valorezzare abbastanza quello che è la propria arte ok e magari andiamo a idolatrare troppo quelli che sono gli artisti magari al pari di quegli italiani ma stranieri cioè al pari a livello artistico di quegli italiani ma stranieri. Appunto quello che secondo me intendeva lui dire era se noi facciamo questa cosa abbastanza aggressiva a livello di rivolta magari riusciamo a cambiare quella cultura che ovviamente è troppo fondata diciamo in Italia che è il modo di pensare. La cosa più difficile da fare ovviamente in un paese è cambiare appunto il modo di pensare. Se noi pensiamo per esempio alle lotte come quelle del femminismo anche per esempio le quote rosa potrebbero essere viste come qualcosa che non è giustissimo da fare da alcuni perché in un mondo ideale non bisognerebbe aver bisogno delle quote rosa. Ma le ragioni di chi magari approva quel tipo di azione tra virgolette legale è che magari andando a forzare questo tipo di cose prima o poi si cambierà un po' la cultura il modo di pensare delle persone e poi non ci sarà più bisogno appunto delle quote rosa. Quindi mi sento un po' di paragonare questa proposta un po' provocatoria ovviamente che non penso che la sua fosse una proposta veramente seria e cioè sicuramente questo post di Mario Biondi ha avuto più eco di quello che doveva avere secondo me per quanto riguarda le sue prospettive quando l'aveva scritto. Secondo me la sua idea era più o meno questa cioè di dare uno strattone per cambiare un po' la cultura in generale rispetto allo stato in cui ci troviamo che io sono d'accordo non vada a valorizzare troppo gli artisti italiani. Perché spesso magari se ci sono artisti internazionali e artisti italiani in un festival ti mettono come headliner ovviamente quello internazionale e non quello italiano. Una cosa di cui tra l'altro anche Andrea Braido parlava spesso e di cui sono totalmente d'accordo. Ma nel caso in realtà delle radio per esempio non sono particolarmente d'accordo. Tra l'altro vi faccio vedere una classifica degli album più venduti nel 2020 in Italia e come potete vedere i primi dieci sono tutti italiani. Ovviamente stiamo parlando di una classifica che prende in considerazione insieme sia gli streaming ma anche gli acquisti fisici. Quindi ovviamente l'acquisto del supporto fisico conterà molto di più rispetto allo streaming eccetera eccetera. Quindi facendo una cosa in generale vediamo che i primi dieci in Italia sono comunque italiani. Quindi dal mio punto di vista non è sulle radio secondo me che si dovrebbe andare a fare questo genere di cambio di cultura perché comunque se vediamo appunto la gente sta ancora continuando a dare più risalto agli artisti italiani. Poi se pensiamo magari a una musica più di nicchia ok come adesso lo è magari la musica che fa Mario Biondi o il rock o il soul o tutte queste cose qua sicuramente ancora nella testa degli italiani c'è questa cosa che quelli dell'estero sono mille volte meglio. C'è proprio una cosa culturale che si vede l'estero come qualcosa di molto più idolo sicuramente diciamo l'America ha puntato molto su questa cosa sul far vedere che i loro idoli sono fenomeni a livello mondiale. Hanno lavorato benissimo ed è quello che è mancato moltissimo secondo me all'Italia. Quindi noi siamo stati vittima del marketing americano e non siamo riusciti a fare altrettanto. Quindi diciamo che andare a lavorare sulle radio secondo me non è così efficace per quello che vorrebbe fare Mario Biondi perché si andrebbe a giocare sul mainstream dove comunque abbiamo visto che comunque nel mainstream abbiamo già tutta la lista di italiani che sono al top. Ma poi appunto come avevo detto c'è una cosa interessante che ha detto Ghigo Renzulli in un'intervista che vediamo qui che appunto gli chiedono una cosa che scrivi più di una volta nel libro è che diversi musicisti italiani se la tirano. Però glissi sui motivi. Puoi accennare qualcosa per sommi capi? Basterebbe il titolo dice lui del libro di Free Kentoni non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti. Il problema è che l'Italia musicalmente è un paese di serie B mi riferisco soprattutto al rock appunto come dicevo io prima riguardo più ai generi di nicchia diciamo che adesso sono di nicchia perché il pop di un certo livello non siamo secondi a nessuno. Io ho lavorato un po' con produttori stranieri poi da giovane ho vissuto in Inghilterra e ho visto che lì è un altro mondo. Abbiamo un mercato piccolo e siamo frustrati questo è importante anche per capire come dicevo prima il sentiment diciamo il sentimento di Mario Biondi cosa che ha come conseguenza essere poco gentili ed educati come se questo potesse dimostrare al mondo chi siamo. È una guerra tra poveri che non a caso si vede spesso anche nel rap italiano. Nel libro racconto l'esempio di un incontro con Jeff Beck uno che non deve dimostrare niente a nessuno quindi non se la tira. Ovviamente Gigo Nenzulli magari ha un po' anche lui un po' troppo aggressivo su come ha descritto questo tipo di cosa però secondo me da queste parole si capisce che magari un Mario Biondi possa essere frustrato proprio per questa situazione perché gli artisti italiani anche di un grande calibro magari non si sentono ritornati di quello che meriterebbero. E questo magari porta una certa frustrazione che li spinge magari anche a essere molto più aggressivi nelle parole che dicono a provocare ogni tanto queste cose qua. Secondo me questa parte detta da Gigo Nenzulli che comunque non è l'ultimo ok cioè una persona che ha vissuto tante epoche della musica le ha cavalcate tutte nel senso che è sempre stato diciamo al top nel senso non proprio nella punta ma è sempre stato in quasi tutte le ere della musica dagli anni 70 fino ad oggi. Un player fondamentale e ha lavorato anche all'estero come ha detto qua ed effettivamente c'è questa cosa che se guardiamo gli artisti americani sono super easy anche con i fan. Non si fanno troppi problemi eccetera proprio perché dal mio e dal suo punto di vista hanno così tanto indietro da quello che fanno a livello artistico che sono molto meno frustrati. Questo secondo me è una delle cose più interessanti su cui andare a riflettere rispetto alla questione appunto a Mario Bionde oltre al fatto che appunto sono abbastanza d'accordo con lui sul fatto che l'Italia non dà abbastanza peso a quelli che sono i propri artisti e continua a idolatrare quelli che sono all'estero. Io in particolare ovviamente ho la visione e sento pareri ovviamente di tanti professionisti della chitarra e della musica in generale quindi più anche riguardo ai musicisti abbiamo dei musicisti pazzeschi che spesso vengono comunque paragonati o messi a confronto comunque messi comunque sotto quelli che sono gli artisti stranieri quando magari appunto ripeto in Italia magari abbiamo qualcuno che magari fa il mazzo a molti artisti stranieri che magari solo perché sono stranieri vengono visti con maggior rilievo. Poi ci sarebbe anche da parlare sul perché troppi italiani magari cantano in lingua inglese. Ne abbiamo parlato anche in uno dei podcast più visti qua sul canale di Chitarra Facile con il Gosso dei Romatera dove lui parlava proprio di questa cosa qua dell'importanza del cantare in italiano eccetera eccetera. Vi lascio il link in descrizione o sulle schede comunque che comunque è anche questa una cosa che porta in ogni caso fagocitamento diciamo verso quello che potrebbe essere un'idolatria verso quelli che sono in America. Spero che ci siano abbastanza spunti di riflessione e mi aspetto anche di vedere una bella discussione magari qui nei commenti delle vostre opinioni riguardo a questa cosa al di là di quanto uno può sbottare Mario Biondi sui social ma magari concentriamoci maggiormente appunto sulle argomentazioni che è la cosa più interessante secondo me di tutta questa faccenda. Bene quindi vi aspetto nei commenti sarò lì a leggerli sicuramente tutti.